Non lo scriverò ovviamente adesso Non lo scriverò ovviamente adesso in chat Scriverò dopo privatamente qui su Twitch E così ti posso aggiungere se vuoi Niente io sto per morire Me lo sento Confido nello sciroppo magico però Lola è morto quello Good job Good job Il box in base è così intanto per trollare Purtroppo Gasper no non posso fare Marco Cannone No Morca Cannone Ok Morgana Cannone Il box è ripeto è in base tanto per trollare E lo streaming di pomeriggio non lo posso fare Perché lavoro tutti i giorni Tranne il sabato della domenica Ma il sabato della domenica normalmente lo uso per O registrare Altre cosine O per rilassarmi Quindi no Lo stream Ah che bello sto pool Sono felice Non dovevo usarla la mozione Cazzo E bacia dietro In pratica i miei turni di lavoro Sono Da lunedì al venerdì Dalle nove Alle sei Di pomeriggio Con l'unico imprevisto però Che io lavoro a Roma Di conseguenza Mi devo spostare tutti i giorni Avanti e indietro Da Latina Di conseguenza Ci metto tipo un'ora e mezza andare Un'ora e mezza a tornare Quindi In realtà parto tipo alle sette di mattina Da casa E torno quasi alle otto di sera No 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 Oddio 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 Lo prende forse No non lo prende Niente Vabbè Segnaliamo che non c'è più il flash Vabbè What the fucker? Questa è successo Quanto è Roma Latina? È circa un'ora e mezza Tra Arrivare alla stazione Prendere il treno Prendere la metro O l'autobus Oh ciao Ben arrivato Sei mancato Fagallo muori su What the fuck Io è da un mese che non vado a scuola Ed ho perso la concezione del tempo Perché è da un mese che non vado a scuola? Cosa è successo? Nooo Vabbè non ho cancato 200 volte E poi io a termine Ho incontrato anche più di qualcuno di voi Grazie Grazie Ah casa neve Minchia da un mese a casa neve Ah beh Ah beh Backflash Mi dispiace perché sei morta mid Morto mid Allora 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 Facciamo Tiamat Tiamat op Risolto a quanto pare se apro la porta prende meglio Lol No appena faccio il 6 vado a fare solo drago Se mi sbrigo magari Non appena faccio il 4 vado a fare solo Sì Ci siamo mai Sì Sigh Ah non è mai la mia, perché non è mai la mia scherzo Vabbè Chimo poi Cough speriamo che non muore io ho tirato ok tutto bene what the fuck what the fuck è da me? no probabilmente si è andato in top esatto la neve a roma è a latina soprattutto giusto prepariando le bianche ma nemmeno così la fa fidatevi nemmeno se pago qualcuno che si mette a sputa neve tutto il giorno esce la neve a latina molto bene lasciamo che lui farma che ha un po' indietro chiediamo aiuto per il drago anche se non ho lo smite quindi è un po' un rischio tu alza e ti esci fuori no vieni qua aspetta un secondo copia continuatelo a fare grazie troppo gentile non c'è bisogno nemmeno dello smite ok eh si ogni tanto lo rispolvero ogni tanto principalmente lo gioco non in streaming perché in streaming gioco principalmente quello che mi chiedete voi però quando sono da solo lo gioco parecchio a shag effettivamente oh vabbè qua grazie no no riganchiamo sto ziggs giusto perché a me sta sul cazzo guarda dovunque cazzo no dai cazzo dai che lo uccidi ottimo vabbè vupi come avrei non si poteva vedere oh oh jungle non si poteva vedere stai calmo eh qua non si possono offendere queste cose capito no quando ha frosino ne neviga da me non neviga comunque facciamo le scarpette velociti facciamo questo andiamo a romper il cazzo ma zizzo quel flash di 0,2 cm è un po' main quello no mo la spacca diretta fanculo non c'è ma vaffanculo va vabbè verso un po' main che non in vabbè di vabbè qui vabbè 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 Poi dobbiamo cercare tutti No, no Ma che pezzo di merda Ho provato a mettermi davanti Ma non ci sono riuscito Come ti è nato questo amore per Shaco? Onestamente Non te lo posso Cioè non te lo so dire di preciso Perché Perché in realtà È nato Casualmente È nato casualmente Perché appena è iniziato A giocare a lol Tipo livello Livello 2, 3, 4 Non mi ricordo Tra i champion gratuiti A questo tempo C'era anche Shaco E mi entusiasmava Il pagliaccio pazzo Qua che assassinava tutti Diventava invisibile Non lo so E poi È un champion Che mi è sempre stato presentato Da chi Gioca da molto più di me Come tra i più complicati Da giocare Tra i champion Tra i champion più complicati Da giocare Di conseguenza a me Quando mi dicono così Mi dicono Sì provalo Provalo Cioè La mia mente dice questo E quindi ho iniziato a giocarlo A spam Finché Non si è diventato abbastanza bravo E ci ho fatto quasi Il diamond Assurante Ovviamente non l'ho fatto solo con lui L'ho fatto atterrando un pochino Però No Cazzo è sta ulti in un senso sta ultimizzata però prendiamo la torre per poco drago sono riuscito a giusto giusto a uccidere cose tutti i bot ci sta ci sta eravamo tutti i bot noi il problema è che ora è nato il drago d'acqua si urla morire perchè è un attimo sbagliato cosa urla capito vabbè rip drago allora vediamo cosa farci facciamoci la tendance plate anzi no facciamoci qualche oggetto magic rest facciamoci 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 sai che mi faccio lo zezerotto è proprio antipatico me lo faccio si dai senti io vado a fare pure sta cosa da solo bello anche ramos cosa nessuno viene a romper cazzo qua ah cazzo ma io non ho ancora la copia eh eh niente non ho vinto di niente ciao oh oh stai calmo ragazzi dai jo dai jo grazie veramente faccio shako tank io dai no 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 puoi gustami puoi gustami grazie cazzo ora ho un problema porco giro un'altra volta grazie no 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 ok giro un'altra volta gente l'amance però dovremmo uscire la la mid noi cerchiamo le kill tagliate busce qua se voi riuscite pure è meglio tanto dobbiamo tagliate no no qua però si è sprecato blu c'è il red no ragazzi non dovete freddare così a lungo se no voi morite intanto trindomare è diventato giustamente un trindomare ed è arrivato in base in pratica mentre questi continuano a cesare senza motivo gli altri non cazzo Eh, a me sa che sei morto Perché hai cesi uno sciago Che sta andando verso la sua base Caro Kha'Zix Spiegamelo Se me lo spieghi Ti do Un gettone d'oro Purtroppo Non c'è spiegazione Oddio Non c'è spiegazione Ma non c'è realizzato Ciao Oh shit, non ho sbagliato Lol Lol Molto bene Questo Kha'Zix è stato purgato malamente No, no Non è quei ragazzi che con la mella viene Voglio Stato ora Usciate Questa la tolgo Cazzo Ciao Come va No, dai Ma che sono stato Figli di buona donna Slite C'è Il cecchetto Questo torna indietro A ucciderlo Ciao 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 Questo è mio Questa è chiaramente mia Porco Fuck C'avevo anche la ultimate Che demente Sbagliatissimo Shaco top Né Un tempo si Un tempo si Quando funzionava di più Shaco AP si Ora No Ok Avevo 4000 gold Avevo 4000 gold E ora mi posso fare Shaco Come vorrei Lo shaco che vorrei Anzi faccio quello blu Che ci sarei meglio Go così E poi cambio anche L'oggettino Allora 0 certo Allora in pratica Quando finisce un game E non dopo di questo Perché stacco Perché sto per morire Io scriverò Nella chat Datemi i nick I primi che mi daranno I nick name Se non hanno già giocato In quella sera Potranno giocare Tutto qui Molto Molto easy Easy Vado a prendere Sion Sempre Se non ulterà Anche se Lui ulterà Probabilmente Oh 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 Ciao No 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 Stupidi Veramente Pensavano di prendermi così No Che ne pensi Della nuova giungla Che metteranno Onestamente Lo mi sono informato Lo so Lo so Non ci crederete Uno streamer Che non si informa Già Perché Perché Io streamo Tanto per divertirmi Insieme a voi Quindi Come sia sia la giungla A me va bene tutto Basta che giocavo insieme E ci divertimo Fa tutto A gonfie vele Poi se non erro Comunque la nerfano Non è che la cambiano Proprio Allora Quando mettere No Warwick Penso che manchi poco Ormai Ok Ok Google Sto bar Non è che Mi do bene Eh zero Basta che guardi i miei streaming E imparerai a giocare Shago No non è vero io lo gioco un po' così e così Lo gioco relativamente bene Però per esempio ancora non ho piazzato Lo zzzerò Eh si perchè lo stavo a prendere io Il danno E credo che lui lo prenda Io volevo andare a mettere WTF Ok Molto bene Questo è il mio Qui mettiamo lo zzzwatt portal Si inizia a pushare come non mai Aio Vado mid a pushare amici Questa che abbia il baron Vediamolo Giusto Dai non mi posso avvicinare Veramente Porco 2 F*** Perché abbiamo preso l'inibitor E poi ci stanno guardando tutti Ciao Come va Tutto bene Oh 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 E tu C'è ancora il twitch Ancora il twitch S3A7 Mantiamo il cazzo Sti Sti tipi Ah qua ci stanno proprio i super minion Che gogo No No Non avevo visto lei Quanto capiscevo Se no mandavo la copia su di lei Vabbè Non posso salvarsi vero Roll Ok Ho ucciso Khajix Non so ancora come Ma ho ucciso Khajix E questo Mi rende molto fiero Di me Tanto gli altri Che stanno a pushare Quindi stanno facendo Il loro dovere Allora Facciamo il warrior E la madonna Quanto stavi sopravvivendo Che succede Uccidiamo tutti Facci facci Eccolo che lo prende No Pecchiato Corri Sei morto Zio Adesso è un piacere però Molto bene L'ho lasciato con 28 di vita E l'ha preso Annie Ok Allora Sì No, non lo preso. Cazzo, 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 che mi devo fermare, mi devo fermare, mi devo fermare, mi devo fermare, che ci sta la cosa di Ziggs. Non avevo visto le palline di Ziggs lì. Oh no! Ok. Fatto bene. Madonna, proprio perché dobbiamo prendere tutto. Proprio perché siamo proprio Paxerelli Acab. Eh, questo te lo smite pure, male. Però te lo smite. No, 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 no. Ah, non lo vivo. Molto bene. No, devo tornare. Devo stare nella... Oh shit. Uh, sono vivo! Ah, ragazzi. Questo è stato easy, questo game. È incredibile. Troppo easy. Stowa, non è così Moio. Ciao. Ciao. Ciao.